buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo vlog intenuta casalinga molto semplice infatti non c'è meno male che mi sono piaciuta biancarina perché altrimenti stamattina in questo vlog non mi sarei abbinato a un colore già mi conosco abbastanza bene e sono ritornate le mie amatissime babbucce ve le faccio vedere sì mi erano mancate allora questo sarà un vlog secondo me è un pochino lungo principalmente perché dopo mangiato vi faccio l'unboxing di tutto quello che ho accumulato che ho acquistato online nell'ultima settimana quindi settimana scorsa ho fatto un ordine da s food ho fatto l'ordine da pinalli e ho fatto l'ordine da prima si chiamava quillalia penso che adesso si chiami ma qui beauty comunque da quel sito lì ho preso alcuni ah e anche chico non ci dimentichiamo anche io ho preso un po di prodotti di make up skin care e ovviamente prodotti alimentari e quindi dopo vi faccio vedere tutti quindi io continuo la mia mattinata e ci vediamo dopo stamattina avete visto ho mangiato la torta alle carote ovviamente il latte e caffè perché altrimenti non mi arrabiglio è molto buona quindi adesso inizio la mia giornata super produttiva anzi la mia mattinata super produttiva e poi io penso che ci vedremo direttamente dopo quel pranzo oppure prima del pranzo vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato non lo so comunque ci vediamo dopo ah vi faccio vedere una new entry li ho corteggiati fino alla fine e ovviamente li ho presi ciao ciao domani sono belli i miei nuovi orecchini ovviamente trovate tutto su Magical Jewels no raga io appena li ho visti mi sono innamorata ho detto no devono essere i miei come mi stanno? a dopo ho scongelato anche un po' di mie strone infatti sta cuocendo con le verdure e il riso basmati quindi pranzo di oggi hamburger di scottona riso e verdurine eccomi qua con l'unboxing misto si scusate che fa l'acconciatura e che non sopportavo più capelli allora la maggioranza vince il make up quindi da dove inizio? vai a scegli Kiko ok allora da Kiko non ho fatto un ordine grandissimo ho preso giusto quello che mi serviva infatti poi ho acquistato anche mia sorella alcune cosucce allora vi faccio vedere cosa ho preso c'erano un po' di sconti per questo che ho fatto l'ordine Kiko dolce diva suppongo che sia la linea c'è anche qui mia sorella così mi dà un attimo una mano se non sbaglio l'ho pagato 9 euro 8 euro e qualcosa all'interno ci sono due spugnette all'interno ci sono due spugnette eccole qua mi sono trovata molto bene con le spugnette di Kiko quindi l'ho voluta riprendere poi il prezzo era buono perché non sbaglio la grande costa sui 6-7 euro comunque c'è questa qui molto morbida ovviamente vanno bagnate e poi quest'altra qui che è comodissima per il contorno occhi perché io prima utilizzavo solo una spugnetta diciamo con questa forma così che facevo tutto però questa per il contorno occhi era molto buona e quindi ho voluto prendere il set poi ho preso due fondo allora due fondotinta che praticamente è la stessa cioè sono uguali non ho mai provato questo fondotinta però perché l'ho preso io mi trovo veramente bene con i fondotinta abbastanza liquidi che non hanno diciamo una coprenza esagerata a parte che non mi serve perché non ho comunque di scoprire da coprire eccetera quindi con l'host in amaffi eccolo qui c'è ragazzi ma il pack è veramente bello ho preso la colorazione 02 perché l'avevo visto su una signora una ragazza su youtube e quindi ho detto no la 01 è troppo chiara quindi prendiamo la 02 e il pack è troppo bello prima io mi trovo benissimo con una linea molto vecchia di Wicon uscita tipo 3-4 anni fa mi trovo veramente bene infatti fu il primo fondotinta liquida che provai e me ne innamorai e infatti l'ho voluto prendere quindi spero di ritrovarmi bene perché ne ho presi due perché il prezzo conveniva tantissimo 7,50 euro o 7,90 invece di 15 euro 16,17 euro ho risparmiato veramente tanto quindi ad otto e più ne ho presi due poi andiamo avanti con cosa andiamo avanti? ma che beauty si chiama? infatti io prima ho detto ma che beauty ma quella si chiama ma che beauty non abbiamo preso tantissimo però abbiamo fatto l'ordine principalmente per lui infatti ne abbiamo presi due prezzavano quanto a prezzo pieno? 4 euro 4 euro comunque è uno shampoo secco della Batiste Batiste? Batiste della Batiste eccolo qui è uno shampoo secco ah che poi dietro ti spiega pure come fare perché praticamente ho fatto così ho detto no comunque eccolo qua lo devo ancora provare però mia sorella l'ha provato recensioni? no buonissimo buono questa volta che capita anche a me devo fare qualcosa di importante oppure devo andare da qualche parte ho i capelli sporchi non mi riesco a fare lo shampoo di solito faccio il codino però ragazzi secondo me questo in inverno è un'ottima spensione da non confondere con un'altra marca che è simile però si chiama Batiste senza la E finale invece questa ce l'ha questa ce l'ha eccolo qua ci sono per varie formulazioni di capelli c'è varie formulazioni di capelli sì castano chiaro poi ci sta pure il bianco vabbè è normale e castano scuro eccolo qui ne abbiamo presi due poi io ho preso infatti cassa sulla roba mi una terra mi trovo molto bene con i prodotti di Essence quindi quando ci troviamo a fare gli ordini perché qui da noi non c'è Essence ci dobbiamo spostare solo al centro campania comunque Essence questa qui è un broad zinc powder powder bronzic powder mi trovo sempre un po' di difficoltà per vedere le cose di make up perché comunque non me ne intendo però c'è chi piacciono queste cose e questa è la numero 01 e poi ho preso uno smart uno smalto è smart poi ho preso uno smalto questo qui si asciuga in 45 secondi dobbiamo testare questa cosa diciamo che è un rosa carne eccolo qui servono sempre a volte qua nei negozi ti sparano dei prezzi assurdi quindi ce ne sta 8 euro ok io direi di passare no ci manca un'altra cosa comunque che ci manca qua dentro un altro ordine che abbiamo fatto ah ok quindi continuiamo su questo sci allora ci manca l'ultimo che sarebbe pinalli amiamo questo sito perché ogni volta se acquistate o due prodotti o tre prodotti fate un ordine immenso vi strariempiono di campioncini infatti ho ricevuto all'interno di questo ordine un profumo bellissimo un campioncino della Cisedo raga come si chiama? Ginza Ginza ragazzi bellissimo allora pinalli che sarebbe questo qui ho preso due prodottini mia sorella aveva già acquistato in precedenza questo che sarebbe della Kils aiutami tua sarebbe uno struccante a base di olio è un olio struccante vi dico come si applica cioè io ho provato da lei la mini taglia prese quanto costava la mini taglia? 11 euro scontata 11 euro raga costa però comunque dovete anche considerare che voi risparmiate i dischetti perché io tipo l'ho provato nel tempo di struccaggio infatti si subito fate diciamo che il mio pallino fisso quando mi strucco sono sempre le ciglia raga ho sempre paura infatti una grande differenza che ho notato ogni volta che mi strucco ovviamente con i dischetti a parte che ne consumo sempre tantissimi mi si cadono me ne se cadono ma che cazzo raga ma perché comunque mi cadono tantissimo le ciglia e con questo prodotto mi sono struccata a sabato non ti ho dato la mia recensione mi sono trovata bene non sei ne caduto una ciglia perché raga ovviamente bastano due o tre gocce poi inumidite le mani e applicate su tutto il viso ovviamente fate i movimenti circolari e raga mi sono trovata veramente bene si scioglie tutto solo che ho visto alcuni punti però poi ho fatto un'altra una seconda passata diciamo con giusto una goccia per togliere gli ultimi residui però perché io l'altro con il panno infatti il prossimo acquisto sarà il pannetto perché quanti di noi ci strucchiamo e poi appliciamo tutto il residuo e lasciamo i residui direttamente sull'asciugamano comunque io con questo mi sono trovata molto bene costa tanto perché questa è la taglia grande eccola qui io invece di 32 che è il prezzo iniziale noi col 30 l'abbiamo pagato 22 euro è tanto per uno struccante però da considerare che comunque ne siamo in due abbiamo diviso le spese e poi ne basta pochissimo infatti noi questa ancora non la abbiamo perché stiamo usando la mini taglia ma la mini taglia è 85 ml la stiamo utilizzando già da due settimane è ancora intatta si può dire quindi veramente bastano poche gocce ma poi raga veramente vi strucca benissimo io ve lo straconsiglio pure se siete non so 3-4 di voi in casa che si struccano che comunque vi truccate secondo me dividete la spesa e non vi pesa neanche ma io ho notato veramente dei miglioramenti assurdi prima non so quante ciglia mi cadevano con i dischetti ma da quando comunque ho utilizzato un po' quando lei ce l'aveva quando noi l'abbiamo comprato mi sto trovando bene e quindi questo qui è ancora sigillato e poi ho provato una crema visso devo dire la verità che questo formato è molto comodo eppure secondo me igienicamente è molto meglio della della Jouë è una crema idatran ma perché mi sto facendo è una crema idratante l'ho utilizzata sabato ancora mai per fare il video poi l'ho lasciata là non l'ho usata più la verità la mattina mi sono svegliata con una pelle bella liscia liscia infatti vedi come conta fare una buona spinta comunque l'ho pagata 10 euro questa crema è fluentata la sere quindi vabbè perché mo' ce l'abbiamo fare una spesa di maschera in tessuto ho fatto un bell'ordine su AS Food non ho preso tanto però ho preso alcune novità allora adesso stanno inviando tipo queste barrette in queste bustine di Fruity Bow allora ho preso tre barrette non sono barrette alla fine sono tipo simil duplo simil snacco proteici della Yami Bar e marchio MGO sono 3 hanno 33% di proteine questo qui è il gusto biscotto ci sono con granella di biscotto proteico e stelline eccolo qui ovviamente vi farò un video recensione questo altro cuccoo questo altro qui gusto cookies and cream e quest'altro qui gusto ovviamente cioccolato bianco e pistacchio che secondo me sarà top già lo so poi ho fatto una mega scorta no scusatemi ragazzi non dobbiamo continuare ancora qua sorry AS Food ha fatto una selezione di prodotti scontati ovviamente avete sempre il mio sconto giù la 010 e quindi ho fatto un po' di scorta di barrette della carb kill sapete che sono in generale le mie barrette preferite insieme alle battle bites ho preso 3 borze in cake che due sono da dare alla mia migliore amica perché gli piacciono tantissimo quest'altro gusto peanut butter e quest'altro molto buono gusto cioccolato bianco e biscotto veramente ragazzi non avete mai provato le barrette grenade così si dice provatele un altro prodotto molto valido è la crema proteica al cioccolato bianco con biscotto mamma mia raga mamma mia ho preso un po' di patatine proteiche per le nostre seratine allora del marchio gott7 questo marchio per le patatine nella guerra comunque protein chips sour cream e onion poi quest'altro qui della nato che io ho già provato questo marchio sono molto valide queste patatine le ho presi in super offerte 1 euro e 99 se non sbaglio prima stavano 2,50 a prezzo pieno sono sempre patatine proteiche gusto sour cream e onion poi ho preso della voti 7 recensite recentemente la vita gusto cheese e sono tantissime perché sono 50 grammi poi ho preso l'oro e le immancabili che mia sorella le ama della probios biologiche chips di cece e pepe nero senza glutine quest'altro qui che le ha anche le le ha provate sempre solito marchio chips di lenticchie rosmarino senza glutine e quest'altro qua sempre chips di lenticchie con paprika che sono le sue preferite infatti di queste sono due poi ho preso queste mamma mia cipolla caramellata roasted onions mi ricordo se è cipolla affumicata cipolla affumicata marchio got in 7 ne ho prese due perché l'ultima volta che feci il video mia sorella non era in casa quindi non le ha potute provare io ho detto guarda sono la fine del mondo quindi le devo prendere e poi ho preso un po' di prodottini nuovi allora ho preso del marchio conz... no è arrossito conz... 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 quindi cipolla arrostita questo marchio che suppongo che si pronuncia conz... 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 sono sempre patatine proteiche ovviamente le vedremo nel dettaglio con tutta la spiegazione e queste qui onion cream che ho preso ho paurissima raga non per queste ma per questo ho troppa paura infatti è uscito tipo se mi sbaglio pure il dolce brownie ma non l'ho voluto prendere love carb sarebbe questo un pane proteico gluten frio forza non lo so lo preveremo insieme in un video e sicuramente in un video vlog prossimo video vlog e vi darò la mia recensione l'immaccio è panifactium panifactium suppongo di sì questi mi ispirano tantissimo sono dei knackerbrot ma ma che è perché mi mettono in difficoltà c'è proprio con tutto sdegno mamma mia che so sono parole italiane mamma mia ora sai che knackerbrot è certo buono knackerbrot low carb knackerbrot crunchy ragazzi scopriremo insieme il sapore però dai questi mi ispirano tantissimo sono ovviamente i prodotti vegan gluten free ketogen ma la boh eccolo qui lo vedremo insieme in un video e nulla quindi io vado a provare ma che è oggi ma qualcuno ma quando è quando uno balbetta quando uno fa qualcuno ma no tenete qualcosa a dirmi niente allora ragazzi io sistemo tutto scendo giù mi vado ad allenare vi dico già che in questi giorni inizieremo a programmare un po' i video per dicembre infatti nel mese di novembre già ve lo dico mettetevi l'anima in pace che sarà sul mio canale un mese di novembre non morto ma un pochino morto perché poi a dicembre ci vedremo tutti i giorni un po' come se fosse un calendario dell'avvento e si raga ho sempre fatto quindi quest'anno non mi tiro indietro l'anno scorso è stato pazzesco ho vissuto proprio devo dire la verità un'area natalizia bellissima un clima natalizio bellissimo e quindi nulla ritornerò a fare di nuovo le due o le tre del mattino per ritarre i video ma va benissimo così e nulla io adesso sistemo tutto tra poco scendo giù mi vado ad allenare e poi saliamo sopra io voglia di crepo quindi dopo faremo le crepe perché ho la bove da saltire comunque ci stiamo vedendo l'uomo delle castagne vi dico già che non mangerò più una castagna in tutta la mia allora quindi adesso riordino tutto scendiamo giù ci andiamo ad allenare e ci vediamo direttamente dopo con la preparazione delle crepe perché giù fa freddo c'è un malasma generale quindi inutile che mi metto lì a filmare quindi a dopo leg day è andato sì sto seduta per terra col tappetino sotto non c'è un po' di luce decente comunque non mi allenavo cioè non facevo un leg day da bene da due settimane perché ho iniziato a riallenarmi fine settimana scorsa perché veramente ragazzi sono state due settimane che non ci ho capito niente quindi non mi sono allenata infatti non avete visto neanche tante storie su Instagram post allenamento che sono levato sempre le foto o queste cose qua non le avete viste proprio perché sono state due settimane un po' così e quindi ho ripreso gli allenamenti e oggi è la giornata leg day le ho stanchite tutte le sere ho i femorali che mi bruciano mi fanno male e infatti dopo avesse di vedere le scale sono tipo e nulla adesso riordino tutto mia sorella pure ha quasi finito di fare il tappetino riordino tutto e saliamo sopra e più tardi facciamo le crepe ho voglia di crepe quindi dopo prepariamo le nostre crepe insieme allora vi vado ad utilizzare questo shaker così che subito faccio che all'interno c'è anche la pallina non so forse è un termine specifico ma io la chiamo pallina vi faccio vedere vado ad utilizzare giusto tre ingredienti allora iniziamo dai liquidi 150 ml di albume non so quanto ci inizia all'interno ma lo vado ad utilizzare tutto però solitamente faccio 150 ml di albume d'uovo 50 ml di latte e poi vado ad utilizzare 30 grammi di farina d'avena in questo caso va ad utilizzare questo al cioccolato per chi non si fosse perso il video vlog del decluttering già sa qui dentro quali farine ci sono quindi andate a vedere quel video e va ad utilizzare 30 grammi di farina d'avena in questo caso al cioccolato e si parte di farina d'avena si è scaricata la videocamera però vabbè il grosso e ve l'ho fatto vedere adesso sto facendo tutte le crepe raga io me le faccio mentre le mangio e due mie nelle mangio così belle calde calde e ci voglio mettere la crema della platinum al cioccolato bianco buonissima e poi l'altra vi faccio vedere come me la faccio ovviamente l'altra nocciola bianca cioè io vi devo far vedere la consistenza di questo adoro ok mi farcisco questa e me la mangio assaggiamo è molto bene sono team crepe con la farina d'avena neutra sincera poi è buono con la crema di insomma allora non guarda giro l'artamento si brucia tutto e vi faccio dire anche quest'altra qui ovviamente ragà queste le trovate sempre su as food ve l'ho anche già recensite ovviamente questo è da girare mamma mia troppo buono troppo buono adoro comunque raga pare uno fantasma sono molto brava a creare maschere della verità ovviamente assaggiamo anche e non c'ho la bianca ops è buona mamma mi ucciderà è buona abbiamo concluso la serie è l'uomo delle castagne tu cosa ne pensi? oh bella no alla fine è stata molto molto bella oddio non bellissima però molto bella come dicevo prima alla fine gli ultimi episodi sono stati belli interessanti devo dire che è una serie che ti fa mettere in dubbio tutti cioè arrivi ad un punto in cui tu vedi di quello tu vedi di quello di tutti e poi alla fine rimani cosa? oh mio dio però è una totalità molto bella io vi consiglio di vederla non la sera specialmente gli ultimi episodi non di sera però no alla fine no ci sono alcune scene oddio abbiamo visto di peggio tipo Richard Richard come si chiamava i brividi quella serie i brividi però alla fine solo qualche scena alla fine proprio che oh mio dio però alla fine molto bella quindi ve la consigliamo e nulla ci vediamo direttamente dopo con la cena adesso mi vado a cambiare mamma ha preparato per stasera gli straccetti di vitello impanati nella farina e cotti in un po' d'olio un po' d'olio e poi ovviamente accompagnerò tutto con il riso perché ho fatto il riso ma mi era avanzato da pranzo e quindi mi mangio con il contorno con il riso volevo aprire anche il mais però solo due apri solo per me no e quindi straccetti di vitello con riso basmati ok 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 grazie a tutti